I staff sono stati all'altezza, ci hanno portato veramente bene, che dire, ottimo? Credo che è un viaggio molto interessante, parecchio proprio a destra delle operative, tutto lo staff è stato molto operativo e eccezionale, ci siamo trovati veramente bene, il Pakistan è il nostro, adesso discutiamo la testa. Venite in Pakistan, venite in Pakistan perché è molto bello. Beh, me tu. Paola, grazie, il Pakistan è molto, molto bello, grazie a tutti e soprattutto a Zahid perché è stato veramente molto bravo.